Bene, direi che possiamo cominciare. Introduco io qualche pensiero, raccogliendo un po' anche dalle stimoli ricevuti negli scorsi incontri. Quindi, partendo proprio dalla questione che è stata rilevata da molti, partendo dalla semantica, cioè il significato di regione e di provincia nello statuto del Tretino Alto Ades in realtà non ha nulla a che vedere né con le regioni né con le province della Costituzione dell'ordinamento italiano. E questo lo è sostanzialmente da sempre, tanto più oggi, dove le province assomigliano, anzi sono di fatto regione di struttura speciale e la regione ha un ordinamento veramente sui generi, anche rispetto alle altre autonomie speciali. Parlando delle origini, quindi dell'accordo de Gasperi-Gruber e della scelta di questo assetto tripolare, In realtà, da quanto è emerso anche nelle discussioni, è messo in luce il fatto che questo assetto così particolare è unico nell'ordinamento italiano, ma anche rispetto ad altri territori. Ha in realtà, trova le sue radici, non in un'invenzione dell'ultimo momento, lo statuto del 48 è sì un compromesso rispetto ai vari progetti di statuto che erano stati fatti, però trova le sue ragioni anche in radici storiche, per esempio nella continuità dell'esercizio dell'autogoverno dei principati vescovili che avevano rapporti stabili anche su funzioni di primaria rilevanza con la contea del Tirolo. Quindi questo assetto, diciamo, complesso di relazioni interistituzionali va molto indietro nel tempo. Questo assetto trova dei riferimenti anche nella condivisione dal 1816 del Fasson Patent, quindi del Statuto di Autonomia della Contea del Tirolo, che univa tutti i territori, oggi dell'Ande, delle due province autonome e quindi della regione, e dove invece la ricerca dell'area trentina era quella di avere proprio una propria dieta, pur nell'ambito della contea. Quindi tutto quello che è il prodotto della ricerca politica, culturale, porta sempre questo segno, diciamo, di interrelazione. Così anche i progetti di autonomia dell'immediato dopo guerra, del 45 e del 46, dove tutti prevedono la regione con delle forme di articolazione. Uno prevede invece, che è quello della Fospat e che mantiene, a mio avviso, una sua forte attualità, è quello che prevede due regioni, ma con organi comuni, sia a livello legislativo, sia a livello amministrativo, direi più assomiglianti alle relazioni interregionali previste dall'ultimo, come mi pare il penultimo, dell'articolo 17 della Costituzione attuale. Vi sono poi gli aspetti legati al fatto che dal primo statuto che cosa discende? Come dicevo, è un compromesso, è un compromesso rispetto a esigenze diverse, qui si è molto approfondito, ma anche questo evito di entrare nei particolari, anche questa sera avremo delle visioni, di punti di vista diversi, ma che sono certamente utili a comprendere la complessità di questa situazione che viviamo oggi. Il primo statuto si fondava su due elementi sostanzialmente. La centralità della regione, questa era la scelta, che aveva la gran parte delle materie di competenza legislativa. Alle province era riconosciuto solo l'istruzione, la formazione, l'artigianato, non si sa perché, perché era l'unica materia che aveva un significato economico, mentre tutte le altre legate all'economia, al territorio, al sociale, alla sanità, eccetera, erano concentrate sulla regione. Però l'altro aspetto era quello della delega generalizzata, quindi il governo, l'attività amministrativa poggiata sulle province, la funzione, la potestà legislativa incentrata soprattutto sulla regione. Questa struttura non ha poi funzionato per varie ragioni per le quali sono state fornite interpretazioni, ricostruzioni di segno diverso sicuramente significative. Sicuramente la delega di fatto non ha agito. Quando la regione finalmente ha approvato una legge per una delega generalizzata in molte materie, poi è intervenuta una sentenza della Corte Costituzionale che ha fatto saltare ogni possibilità. E di fatti di lì a poco, siamo nel 57, pochi mesi dopo, abbiamo il Los Fontrient di Castelfirmiano e quindi l'apertura della crisi anche di carattere internazionale, quindi anche avanti all'ONU. Anche qui è stato ricordato le interpretazioni di questa difficoltà di attuazione, che tra l'altro era una difficoltà, riguardava anche i rapporti fra regione, province e Stato. Le norme attuazioni erano frutto di un procedimento unilaterale da parte del governo e quindi oltretutto tardavano anche ad uscire. Ne sono uscite poche tardi e non con grande soddisfazione rispetto alle aspettative e rispetto a quello che era il disegno originario. Rispetto al secondo statuto invece è emerso anche un po', soprattutto per quanto riguarda il percorso di questo statuto e anche della sua attuazione, il contributo del Trentino nella Commissione dei 19 per la definizione del pacchetto che pur era rivolto espressamente alle popolazioni dell'Alto Adige ma che comunque ha impegnato anche i rappresentanti del Trentino e tant'è che il pacchetto pur essendo definito per misure a favore della popolazione dell'Alto Adige era riferito ad entrambe le comunità, sia all'Alto Adige sia al Trentino prevedeva il mantenimento dell'unico statuto e quindi era impostato comunque sul fatto di questo sistema complesso tripartito, tridimensionale e tripolare. Questo è anche il percorso che porta poi alla chiusura dell'avvertenza dell'ONU più volte ricordato come le norme di attuazione del 1992 in particolare il decreto legislativo 266 che disciplina il rapporto fra la legislazione statale, regionale e provinciale e anche fra l'amministrazione statale e provinciale e regionale con soluzioni del tutto innovative che rimangono innovative anche oggi rispetto all'ordinamento generale della Repubblica Italiana seppure oggi soggette a varie forme di usura e di erosione però rappresentano un momento che ha visto coinvolgere la regione, le due province autonome e che sono state il frutto di un concorso di contributi di tutte le comunità e che ha portato poi alla chiusura e rilascio della quietanza liberatoria e laddove questo testo che contiene riferimento sia all'accordo di Gasperi Gruber cosa che il governo italiano aveva fin lì rifiutato ed è stato tra l'altro possibile inserirlo solo per l'insieme di circostanze favorevoli prima di tutto che sia l'Italia che l'Austria dovevano sciogliere la propria situazione critica ai rapporti per far entrare l'Austria nell'Unione Europea e quindi è il fatto che entrambi i governi hanno usato tutti gli strumenti che avevano per forzare una situazione che altrimenti a livello di Avvocatore di Stato di Consiglio di Stato e anche di vari uffici legislativi centrali non sarebbe altrimenti passata dunque ecco quello che esce da questo statuto invece lo sappiamo tutti il rovesciamento della centralità si porta sulle due province che assumono sostanzialmente tutte le materie alla regione salvo un paio di materie, libri fondiari, previdenza e poco altro vengono attribuite i profili ordinamentali di materie che sono di competenza delle province per cui abbiamo l'incrocio, questa interazione fra l'ordinamento degli enti sanitari e assistenza sanitaria e ospedaliera alle province fra l'assistenza e ordinamento degli istituzioni di beneficenza e assistenza pubblica e assistenza e beneficenza delle province e così via quindi abbiamo questa particolare struttura che ancora una volta ci pone in questa situazione che continua a mantenere questo assetto tripolare poi finalmente a un certo punto si realizza anche quel sistema della delega generalizzata che era la chiave del primo statuto di autonomia che non si era tradotta in concreto che poi nel 2003 invece si traduce nella delega generalizzata di quasi tutte le funzioni amministrative della regione alle due province autonome rispetto a questo la situazione quanto è emerso anche nei lavori rispetto a una futura modifica revisione dello statuto peraltro richiamata anche dalla legge costituzionale del 2001 la riforma del titolo quinto della parte seconda richiamata anche nel progetto di modifica costituzionale dei tempi del governo Berlusconi nel 2006 e quella del governo Renzi nel 2016 tutte prevedono comunque la revisione degli statuti speciali revisione che comunque in sé oggettivamente è necessaria in quanto gli statuti in parti significative non corrispondono più alla realtà diciamo allo statuto materiale potremmo dire riprendendolo dal termine costituzione materiale per effetto anche di tutto il sistema delle norme di attuazione sono circa 190 le norme di attuazione che hanno profondamente inciso anche rispetto all'impianto statutario andando anche oltre lo statuto quindi usando quella definizione di preter statutum che è consentito anche dalla giurisprudenza costituzionale quindi arrivando a definire una dimensione che è tutta in fieri e rispetto alla quale chiaramente si pone la questione dell'intesa cioè fino ad oggi salvo la parte dello statuto relativa alla parte finanziaria che è modificabile con legge ordinaria ma su accordo preventivo con la regione e le province autonome questo stesso schema dovrebbe essere usato anche per la legge costituzionale di modifica degli statuti rispetto a questo che è un aspetto chiaramente sostanziale c'è però il tema della costruzione della visione del proprio futuro su questo abbiamo visto che anche il risultato dell'azione della consulta della consulta trentina e della convenzione invece su tirolese hanno portato a esiti diversi a percorsi diversi rispetto ai quali evidentemente si tratta di trovare invece per il futuro una dimensione, una visione comune che abbia come aspetto essenziale uno diciamo che dal mio punto di vista è rinunciabile che è quello della unicità dello statuto poi come dentro lo statuto costruire un nuovo impianto istituzionale e questo è appunto da vedere attraverso questo percorso di approfondimento, di confronto e quindi un lavoro soprattutto di ordine culturale che passa attraverso come dire una rivisitazione di quella che è l'identità di queste comunità e un po' la visione di se stessi proiettata nel futuro io mi fermo qui e passo la parola no, no, ho solo sintetizzato no, ho solo sintetizzato adesso ci sono i punti di vista particolari passo la parola a Marco Boato che è stato, lo conosciamo tutti credo che non occorre presentarlo quindi passo la parola a Marco Boato grazie grazie, grazie di cuore al dottor credo che tu sia anche professore insegna a Udine da qualche parte sì, sì quindi anche professore Gianfranco Postal e soprattutto il professor Tognatti che loro due sono stati i promotori di questa serie di panel, di seminari li chiamerei anche per la composizione del pubblico che è più da seminario che da grandi conferenze ma pochi ma buoni, diciamo, i competenti soprattutto vi ringrazio molto io come Postale Tognatti Sanno e qualche altro ho seguito tutto fino al primo giorno dal primo incontro seguirò anche il successivo e forse ancora due ce ne sono e mi fa molto piacere anche se io non sono un chierico del diritto sono un giurista fra virgolette laico che ho imparato soprattutto attraverso l'esperienza lunga, l'esperienza parlamentare e grazie anche ai straordinari dossier devo dire che la Camera e il Senato predispongono ogni volta che si affrontano questi temi sono dossier fatti da funzionari che sono a livello, devo dire, di professori universitari molto bravi e studiare quei dossier per me è stato molto utile per il mio lavoro parlamentare la mia tristezza è che la stragrande maggioranza dei parlamentari qui dossier non li leggono mai detta questa cosa e detto anche che mi fa molto piacere stasera oltre che con Flavio Mengoni essere nel panel con la professoressa Esther Happacher che oltre che essere di una straordinaria competenza è l'unica donna di questa serie di panel e quindi le rappresenta tutte perché sai che c'è questo detto no women, no panel ma qui per fortuna una c'è ed è la più brava che c'è in circolazione diciamo molte delle cose che mi sono segnato di dire le ha appena dette Gianfranco Postal quindi le dirò con molta rapidità anche perché non devo occupare troppo tempo e però riprenderò molte delle cose che Gianfranco Postal ha appena detto mi fa anche piacere perché c'è una sintonia allora la prima cosa non dico solo come affermazione perché c'è stata anche nella introduzione di Postal è il necessario riferimento che vari relatori degli incontri precedenti hanno fatto al quadro storico secolare dei rapporti fra Trentino su Tirolo come lo chiamiamo oggi ma che all'epoca su Tirolo in realtà all'epoca era il Trettino e il Tirolo il riferimento ai principati vescovili ai rapporti con l'impero astrungarico le lotte per l'autonomia già in quell'epoca eccetera io do per scontato questi riferimenti al quadro storico secolare però dico che è giusto che ci sia sempre questo richiamo anche Postal ha fatto poco fa l'altro necessario riferimento che qualcuno ha fatto ha fatto mi pare Packer l'ha ripreso Carlo Andreotti eccetera l'ho fatto molte volte in Parlamento in Commissione Affari Costituzionali anche in Aula e al periodo fascista perché se noi non teniamo conto certo è totalmente cambiata la situazione ormai da molti decenni però se non teniamo conto di quello che è stato l'impatto spaventosamente negativo del periodo fascista in Alto Adige così come veniva chiamato esclusivamente all'epoca Guaidi del Suttirol se non teniamo conto di questo che è nella tradizione storica delle famiglie suttirolesi non più i padri ma i nonni i bisnonni eccetera però c'è questa cosa ovvio questo passato che ancora oggi sia pure molto lontano pesa ed è stato giusto forse l'ha detto Packer che non ha fatto un intervento giuridico ha fatto un intervento più storico-culturale ma ha fatto bene noi in particolare trentini ma in generale italiani non suttirolesi dobbiamo avere sempre a mio parere una grande attenzione al riconoscimento storico delle sofferenze del popolo suttirolese oggi non c'è più nessuno vivo credo di quelli che hanno vissuto quell'esperienza o forse sarà qualche centenario però ripeto pesa nella storia e troppe volte meno in trentino soprattutto a livello nazionale c'è stata una sottovalutazione di questi vent'anni terribili che il Suttirolo ha passato dall'ora Alto Adige poi anch'io riprendo le cose che ha detto Postale l'importanza storica ovviamente dell'accordo De Gasperi-Gruber l'accordo di Parigi del 5 settembre del 46 tra l'altro la firma di De Gasperi è tutta attaccata sotto quell'accordo poi hanno cominciato a scrivere De Gasperi ma lui si chiamava il Cide De Gasperi un'unica parola un unico nome e se guardate la firma io ce l'ho qua la fotocopia questo manuale l'altro Adige De Gasperi si chiamava per intero diciamo senza non ho mai capito perché questa però vorrei anche ricordare questo anche giusto a rovescio ricordarlo che Gruber per decenni è stato considerato in Sud Tirolo un traditore per decenni per molti decenni è stato considerato un traditore soltanto negli ultimi decenni c'è un riconoscimento e viene celebrata non negli ultimi decenni ma negli ultimi anni viene celebrata per esempio positivamente la giornata dell'autonomia il 5 settembre anche in Alto Adige prima questo non avveniva ripeto Gruber per tanti anni ha subito una specie di ostracismo politico-culturale quasi etico poi arriviamo postale appena detto quindi io questi appunti che mi sono fatto li leggo rapidissimamente perché ormai percorro ma mi è fatto piacere di avere nella mia mente lo stesso percorso che ha fatto lui lo statuto di autonomia il primo statuto di autonomia del 48 arriviamo all'os fontriente del 57 a Castelfirmiano oggi Castelfirmiano è un bellissimo museo di Messner che lo ha rivitalizzato ma lì molte migliaia di sottirolesi furono riuniti da Magnago e fu lanciato lì l'os fontriente bisogna non dimenticarsi forse questo nome postale non l'ha fatto ma bisogna non dimenticarsi degli errori clamorosi che fece che aveva fatto all'epoca del primo statuto la democrazia cristiana trentina non tutta ma il nome di Odorizzi nella storia è segnato come un nome assolutamente in senso negativo per tenere in piedi la regione l'alleanza col movimento sociale è stato uno sbrego per chi aveva vissuto il periodo fascista poi c'è i ricorsi questo è stato ricordato due all'ONU da parte dell'Alto Adige dell'Austria nel 60 e nel 1961 ci sono poi gli anni del terrorismo io sono stato fra l'altro il relatore in Parlamento nella commissione stragi su tutta la vicenda del terrorismo su tirolese dove io non ho parlato solo del terrorismo su tirolese ma anche del ruolo dei servizi segreti italiani e stranieri nell'inquinare quella fase storica se posso fare un'incisa visto che vedo il mio amico Carlo Andreotti qui davanti io personalmente sarei favorevolissimo che ci sia un provvedimento di grazia ormai sono passati troppi decenni ogni volta che se ne parla salta fuori un parente di una vittima di 50 anni fa non sono i parenti che devono decidere però tu hai sbagliato a citare le Brigate Rosso c'è mai stato un provvedimento di grazia in Italia nei confronti dei terroristi i terroristi di cui tu hai parlato hanno fatto 20 25 30 anni di carcere quelli che sono usciti e c'era qualcuno irriducibile ancora in carcere l'unico che ha ipotizzato un provvedimento di grazia solo per Renato Curcio come sapete è Cossiga il presidente della Repubblica Cossiga a cui si oppose l'allora ministro della giustizia Martelli che glielo impedì cosa che secondo me costituzionalmente era sbagliata voi sapete che in un episodio analogo Ciampi il presidente della Repubblica Ciampi che ha avuto un ostacolo da parte ma non riguardava le Brigate Rosse da parte di Castelli mi pare che fosse il ministro leghista della giustizia Ciampi ha ricorso alla corte costituzionale ha sollevato conflitto di attribuzioni con un rischio spaventoso se la corte gli avesse dato torto di delegittimazione invece la corte gli ha dato ragione e Napolitano che è subentrato subito dopo a Ciampi ha adempiuto all'impegno che Ciampi aveva preso ma non c'entra nulla con le Brigate Rosse la commissione 19 che giustamente ha ricordato Postal poco fa le misure del pacchetto approvate nel 69 io ricordo Esther ricorderà meglio di me che la Fospatai ha approvato il pacchetto con una maggioranza risicatissima e credo che sia Carl Seller che Sifri Bru del miei amici del resto giovanissimi all'epoca avevano votato contro e poi sono stati soprattutto Carl sono stati dei protagonisti delle vicende costituzionali che ci riguardano ma all'epoca loro votarono contro Magnavo contro il pacchetto poi secondo Statuto di Autonomia del 71 la legge costituzionale il DPR che ha approvato il test unificato le principali competenze della regione passano non tutte ma le principali passano alle due province autonome c'è poi la lunghissima sequela che postale ricordato vedete che il percorso che facciamo è analogo ma non poteva che essere così lunghissimo percorso delle norme di attuazione e anche delle leggi di attuazione perché la legge che ha modificato i collegi senatoriali io ero in commissione affari costituzionali del senato all'epoca con Elia presidente l'abbiamo approvata nel 91 se non ricordo male c'erano quattro collegi in Trentino e due in Alto Adige la cosa non aveva nessun senso e passiamo a tre collegi in Trentino e tre in Alto Adige io voglio dire con garbo che io non sono scandalizzato dall'idea che non ci sia più eventualmente il settimo collegio perché nessuno l'ha mai vissuto come quello fluttuante il miglior perdente nessuno l'ha mai vissuto come una rappresentanza regionale se era di Trento era trentino se era su tirolese ma forse non l'è mai stato su tirolese era su tirolese poi arriviamo al 92 con la clausola liberatoria che è stata da parte dell'Austria che è stata anche questa appena ricordata una piccola cosa che non è stata ricordata per fortuna per fortuna è l'anno dopo nel 93 quando in Parlamento c'è l'esame della Camera in quel caso la legge Caveri Val d'Aosta che era solo finalizzata ad attribuire alla regione Val d'Aosta la competenza esclusiva primaria in materia di ordinamento degli enti locali tema ancora oggi molto delicato come Ester Sane abbiamo parlato in passato più volte e feci io un emendamento per attribuire la stessa competenza anche al Trentino Alto Adige e le altre i deputati delle altre regioni a statuto speciale hanno fatto altrettanto e quindi nel 93 abbiamo approvato una legge costituzionale l'unica modifica fatta dopo il secondo statuto che prevede che le regioni a statuto speciale abbiano competenza primaria esclusiva in materia come è tuttora oggi in materia di ordinamento degli enti locali poi noi sappiamo che la legge sugli enti locali regionale ha una parte sul Trentino una parte sull'altro Adige è diversa l'una dall'altra quindi è quasi una finzione questa competenza regionale ma c'è tuttora poi arriva la riforma dello statuto del 2001 di cui personalmente sono orgoglioso di essere stato il primo firmatario nel 98 99 quando l'ho presentata la legge costituzionale numero 2 che ha vari aspetti che ha avuto vari aspetti ma che ha soprattutto rovesciato il rapporto tra regione e province autonome questo assetto tripolare prima veniva la regione che poi si articolava nelle due province autonome grazie a quella riforma che qualcuno non ha condiviso ma grazie posso dire un incidio perché è bene che quello che posso dire lo dica anche sulla base della mia esperienza personale c'era il parere obbligatorio ma non vincolante delle due province della regione in provincia di Trento dove c'era una maggioranza di uno dell'Ai aveva la maggioranza di uno Casagranda all'epoca che si aggiunse se no non aveva la maggioranza Claudio Molinari si astenne e non diede la maggioranza dell'Ai mi telefonò mi telefonò a Roma e mi disse mi dimetto perché non ho avuto il parere favorevole a una riforma che ovviamente io condivido e io gli ho risposto all'epoca non c'erano ancora i telefonini o forse pochissimi li avevano gli disse no Lorenzo non dimetterti perché noi andiamo avanti lo stesso perché questo è un parere obbligatorio ma non vincolante tanto è vero che siamo andati avanti lo stesso e abbiamo approvato quella riforma lo statuto che per quanto riguarda il Trentino ha potenziato anzi ha introdotto la tutela dei ladini che all'epoca c'era solo per l'Alto Adige e ha introdotto a mio parere anche qua qualcuno non è stato d'accordo io ho proposto e ci sono riuscito di ridurre i famosi quattro anni di residenza a un anno e avevo proposto a Carla Sifred e gli altri di ridurre da quattro anni a due anni la residenza per il diritto di elettorato in Suttirolo quello dell'un anno è passata ed è in vigore ma purtroppo secondo me sbagliando Carl Sifred e gli altri della Fospatale non hanno accettato di portare a due anni non a uno a due anni questa questione che suscita molte volte dei dissensi chi arriva in Alto Adige e si trova per quattro anni impossibilitato a votare e però la cosa più importante per il Trentino è stato il cambiamento della forma di governo che è stato possibile da solo rovesciando il rapporto cioè dando priorità alle due province rispetto alla regione perché? Perché la Fospat per ragioni in questo caso comprensibili di carattere chiamiamola così etnico-linguistico non ha voluto l'elezione diretta del presidente che non c'è tuttora in Alto Adige e Tirol e invece in Trentino ce l'abbiamo e Carlo sa che lui ha fatto tre giunte con tre maggioranze diverse nella legislatura precedente grazie a questa riforma della forma di governo provinciale da allora c'è la stabilità dei governi anche di quelli che non mi piacciono quello attuale non mi piace ma è giusto che abbia la garanzia della governabilità e della stabilità anche la Valle d'Aosta si oppose al cambiamento della forma di governo regionale e credo che ne abbiano avuto non buone conseguenze perché hanno avuto vari ribaltoni in Val d'Aosta cosa che non c'è in Alto Adige con la riforma del 2001 abbiamo introdotto abbiamo quando dico questo dico carcellere io ma in realtà la commissione affari costituzionali eccetera però abbiamo lavorato a volte in accordo a volte litigando ma insomma sempre rispettandoci abbiamo introdotto il comma 2 dell'articolo 103 dello statuto che riguarda la revisione dello statuto e che oltre che esserci l'iniziativa del governo dei parlamentari io parlamentare l'ho fatta due volte questa iniziativa ma c'è l'iniziativa che appartiene al consiglio regionale su proposta dei due consigli delle due province autonome e successiva conforme deliberazione del consiglio regionale questa cosa è fondamentale per gli eventi successivi a cui accenerò devo essere veloce però col nuovo comma 4 dell'articolo 103 che abbiamo introdotto nel 2001 in realtà abbiamo introdotto prima è entrato in vigore nel 2001 si dice che le modifiche allo statuto non sono sottoposte al referendum nazionale all'epoca che non era ancora in vigore era approvato ma non in vigore il mio amico fra virgolette ma forse anche amico anche se ho idee opposte alle sue Renzo Gubert cercò di raccogliere le firme di un quinto dei senatori per provocare un referendum per bocciare la riforma non ci riuscì per fortuna e la riforma è entrata in vigore oggi non è possibile un referendum nazionale a cui siano sottoposte le leggi costituzionali di modifica dello statuto arriva poi la staffetta di cui si è parlato tante volte di cui Alberto Rella ha rivendicato la prima zia e ha fatto anche bene è introdotta da Delay e Dunwalder io lo so che le opinioni sono differenti nei seminari è giusto che sia così e non solo nei seminari io l'ho considerato un fatto positivo perché per la prima volta un presidente sottirolese per metà legislatura è diventato presidente della regione di quella abborrita regione che Dunwalder qualche anno prima è già stato ricordato l'aveva ricordato Carlo Andreotti se non ricordo male si era pronunciato per l'abolizione della regione per la costituzione di due regioni autonome separate Trentino e su Tirolo allora grazie alla cosiddetta staffetta il presidente di allora e quello di oggi con pace diventano per mezzo alla legislatura presidenti della regione secondo me questa è una forma di legittimazione non irrilevante anche se devo dire anche questo altri l'hanno detto che negli ultimi anni ogni riferimento è puramente casuale questa staffetta non è stata affatto valorizzata il dialogo la collaborazione in ambito regionale non è stata non è stata sufficiente in contemporanea con le modifiche statutarie del 2001 c'è stata anche l'approvazione che è stata ricordata della riforma del titolo quinto della seconda parte della costituzione col nuovo articolo 116 una cosa apparentemente banale abbiamo introdotto la denominazione bilingue Trentino Alto Adese barra Zittirol uno dice eh vabbè cosa vuoi che sia no no c'è stato uno scontro furibondo in Parlamento su questa cosa il centrodestra di allora il titolo quinto sapete che l'abbiamo approvato con quattro voti di maggioranza il centrodestra di allora non lo voleva il presidente della camera violante non perché fosse d'accordo con il centrodestra ma perché voleva agevolare la cosa ci aveva chiesto di toglierlo noi noi abbiamo tenuto duro oggi in costituzione c'è la denominazione Trentino Alto Adese barra Zittirol e c'è Val d'Aosta Val d'Aosta ma sulla Val d'Aosta non hanno fatto grande opposizione era il Zittirol che non poteva comparire in tedesco nella nostra costituzione noi abbiamo tenuto duro e siamo passati il nuovo secondo comma quello è più importante non più solo sul piano simbolico ma il riflesso costituzionale di quello che avevamo fatto nella legge di riforma dello statuto la regione Trentino Alto Adese Sittirol è costituita dalle province autonome Trento e Bolzano e in questo modo si rovescia anche in costituzione il rapporto regione-provincia e vengono per la prima volta citate in costituzione le province autonome Trento e Bolzano perché nello statuto del 48 ovviamente non c'erano il nuovo terzo comma che non riguarda noi ma sarebbe uno strumento fondamentale per attenuare la rivalità delle regioni ordinarie nei confronti delle cinque regioni statuto speciale il nuovo terzo comma prevede come sapete il regionalismo differenziato finora mai attuato nonostante i due referendum del Veneto e della Lombardia l'Emilia Romagna anche ha richiesto l'attuazione poi anche altre regioni ma finora non è mai stato attuato la pandemia non ha aiutato a proposito della proposta di Günther Pallaver che ho ascoltato con grande interesse l'ultima volta su una regione trasfrontaliera bellissima proposta devo dire devo dire per adesso bellissima utopia ma le utopie possono diventare anche concrete come diceva il mio amico Alex Langer ricordo cosa dice l'ultimo comma che abbiamo introdotto nel titolo quinto nell'articolo nel nuovo articolo 117 perché questo mi pare che nessuno l'abbia evocato virgolette nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con stati la regione con stati e intese con enti territoriali interni ad altro stato nei casi con le forme disciplinati da legge dello stato secondo me quest'ultimo comma dell'articolo 117 potrà in futuro lo dico al professor Tognanti e al professor Postal diventare l'aggancio costituzionale per quella ipotesi per adesso un'ipotesi che Ginter Pallaver ci ha prospettato la volta scorsa ricordo ancora ma anche questo è stato già ricordato che l'articolo 10 della legge costituzionale numero 3 del 2000 è uno che non è un articolo in costituzione ma è un articolo col valore e col vigore di legge costituzionale dice sino all'adeguamento dei rispettivi statuti sino all'adeguamento dei rispettivi statuti le disposizioni alla presente legge costituzionale si applicano anche alla regione a statuto speciale le province autonome di Trento e Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite ma l'adeguamento non c'è stato nel 2014 Esther il mio pensiero è che la regione va mantenuta con delle modifiche ma adesso accenderò anche a questo con delle modifiche che non sono attribuzione di nuove competenze che credo sia difficile far accettare alla Fosfat ma con un ruolo della regione di coordinamento e di collaborazione fra le due province anche con provvedimenti o legislativi o di indirizzo politico che siano approvati in regione con votazioni distinte fra la maggioranza di Trento e la maggioranza di Bolzano cioè devono avere la maggioranza di entrambi i consigli provinciali che però sono all'interno del consiglio regionale cioè questo permette di avere la certezza che non c'è una prevaricazione trentina in questo caso potrebbe essere nei confronti dei sud tirolesi e al tempo stesso però di valorizzare la regione come un terreno di coordinamento e di collaborazione nell'ambito appunto regionale e poi anche nell'ambito euro regionale e in futuro chissà se il sogno di Winter Pallaver che condivido ma potrà mai realizzarsi sarà molto lunga la strada non so se io sarò ancora vivo nel 2014 come Esther Happacher sa benissimo con le presidenze di Compatcher che c'è tuttora e di Rossi presidente all'epoca della provincia di Trento si costituì un gruppo di lavoro informale trentino su tirolesi di cui Esther io e vari altri abbiamo fatto parte per molti mesi per elaborare le proposte di possibili modifiche allo statuto di autonomia soprattutto in materia di competenze anche però con una ipotesi di collaborazione a livello regionale in materia di comune interesse lo stavo dicendo adesso rispondendo al professor Tognatti con l'approvazione distinta da parte dei componenti di Trento di Bolzano in modo che non ci fosse o non ci possa essere nessuna prevaricazione purtroppo il gruppo di lavoro elaborato elaborate le sue proposte Esther sa quante volte ci siamo riuniti quante volte abbiamo discusso quanto lavoro abbiamo fatto devo dire positivo siamo riuniti uno o due volte a Trento tutte le altre volte noi trentini siamo andati a Bolzano ben accolti devo dire elaborate le sue proposte il gruppo di lavoro non ha avuto alcun esito da parte dei due presidenti salvo la presentazione autonoma in Parlamento di una proposta di legge costituzionale che non riprendeva tutto il nostro lavoro ma soprattutto quello sulle competenze da parte delle Svop che però non ha avuto alcun esito ed è bene che non abbia avuto alcun esito perché era una scelta totalmente unilaterale anche se per molti aspetti condivisibile ho quasi finito successivamente su proposta originaria di Francesco Palermo che molti di noi conoscono si sono è stato lui a fare la prima proposta si sono costituite ahimè separatamente nel 2016 una convenzione a Bolzano e una consulta a Trento sono state già ricordate per la riforma dello statuto non ho trovato il testo di Bolzano non so dove l'ho messo ma questo volumone è il lavoro della consulta della consulta di Trento che mi ha donato Jens Berg tu ce l'hai mi piacerebbe averli mi fa una cortesia perché non so non so se li ho mai avuti o dove li ho messi ho seguito tutto il lavoro poi il professor Tognatti a un certo punto è entrato anche a far parte della convenzione a Bolzano questo complesso lavoro istruttorio non ha avuto esito alcuno anche perché non solo per questo i due organismi hanno lavorato in parallelo senza tener conto di quanto previsto dal secondo coma l'articolo 103 sulle modifiche sulle procedure per le proposte di riforma del statuto che dice su conforme deliberazione del consiglio regionale quindi non era immaginabile che le province andassero totalmente in chiave parallela e in parte anche divergente perché poi se si voleva procedere su quel lavoro di riforma si doveva andare in consiglio regionale e avere un'approvazione conforme difficile ho quasi finito domando scusa difficile immaginare oggi una proposta di legge costituzionale di organica riforma verso uno terzo statuto di autonomia che questo poi è il titolo che hanno dato a questo lavoro verso un terzo sia in assenza in questa fase di un reale confronto fra Trento e Bolzano al riguardo sia in assenza più in generale è già stata citata la postale di una procedura di intesa che era prevista nel 2006 dalla riforma Berlusconi e in modo diverso e ridotto devo dire nel 2016 dalla riforma Renzi-Boschi ma come sapete entrambe bocciate nei referendum oppositivi in questo caso e non confermativi forse oggi bisognerebbe provare a introdurre dico io la mia proposta la procedura dell'intesa non in Costituzione ma nell'articolo 103 dello Statuto Speciale e negli analoghi articoli delle altre quattro regioni a Statuto Speciale d'accordo con le altre regioni a Statuto Speciale perché nel 99 2000-2001 siamo passati grazie al fatto che avevamo messo d'accordo tutte e cinque le regioni a Statuto Speciale salvo Val d'Aostra e Alto Adige sulla questione delle elezioni dirette del Presidente in analogia a questo e anche questo postale anche l'ha detto ha detto tutto in analogia con quanto già previsto dall'articolo 104 il successivo articolo dello Statuto per le norme finanziarie del titolo sesto e anche per l'articolo 13 mi pare sulle concessioni idroelettriche in ogni caso è difficile immaginare una riforma dello Statuto in assenza di una iniziativa politica forse per Ciso Andreolli l'ha detto con l'intervenuto l'altra volta in assenza di una iniziativa politica istituzionale non solo l'opinione pubblica gli articoli giornali che sono fondamentali ovviamente ringrazio l'Adige che in questo periodo sta seguendo questa nostra attività in assenza di una iniziativa politica istituzionale delle forze politiche dei consigli provinciali e regionali e degli stessi organi di governo non c'è niente in questo momento sotto il sole in questa fase storica c'è un'assoluta mi dispiace dirlo io non sono un pessimista ho sempre lavorato per costruire ma in questa fase storica c'è un'assoluta mancanza di proposta e di visione riformatrice senza le quali senza una proposta e senza una visione è impossibile immaginare anche un consenso da parte dell'opinione pubblica della società civile che è fondamentale suscitare ma Andreoli aveva ragione su questo e forse anche Carlo l'ha detto bisogna che ci sia un'iniziativa politica di chi è in grado sia politicamente che giuridicamente e rappresentativamente di fare delle proposte queste proposte allo Stato che io sappia non ci sono ho sforato i tempi e vi domando scusa domando scusa anche a Estere e a Flavio grazie e adesso passo la parola a Esther Apache per chi eventualmente non la conoscesse è ordinario di diritto costituzionale all'università di Innsbruck la facoltà di giurisprudenza e conoscitrice grande conoscitrice dell'autonomia diciamo ha anche un passato presso la provincia di Bolzano quindi ha vissuto su tutti i fronti insomma quello concreto e quello della ricerca scientifica quindi conosce molto bene la situazione quindi adesso abbiamo un punto di vista al di là del Brenner che guarda in giù grazie anche a cavallo del Brenner grazie mille Gianfranco grazie per l'invito grazie veramente il professor Toniatti e Gianfranco Apostal per questa occasione di 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 mettere di cercare di mettere in moto anche se i tempi parevano poco propizi insomma l'ultime fra le ultime battute di Marco Vuato abbiamo già individuo sentito che non c'è nessuna idea al momento io credo che ancora non so funziona ok anche se al momento pare poco opportuno nessuno ce lo chiede o tutto sembra concentrato sulla pandemia e sul lottare contro gli effetti di questa pandemia io credo che è molto opportuno riflettere forse in questo senso in un in un spazio molto più libero se non si è confrontati con un richiesta diciamo politica di governo di produrre qualcosa che risponda alle esigenze anche spesso legate alla situazione politica del momento io mi ricordo la tavola rotonda sull'oreggio del 1996 beh l'oreggio è venuta molto più tardi però allora si è già si sono già fatte delle riflessioni su come si potrebbe collaborare in maniera transfrontale oltre il brand non mi rimane che dire che molto e quasi tutto è già stato detto per cui io vorrei forse soffermarmi su su due due tre aspetti e il primo aspetto e qui faccio una piccola apra piccola parentesi Gianfranco ha detto che ho lavorato in provincia io sono all'università di Innsbruck e la mia carta è diritto italiano costituzionale con particolare riguardo dell'autonomia sottirolese dunque nell'ambito di un corso di laurea di diritto italiano dedicato a formare i giuristi altoattesini giuristi bilingui e conoscitori conoscitrici dell'autonomia altoattesina confesso meno dell'autonomia trentina dunque detto questo è stato fatto molto riferimento in questa discussione da parte del Trentino all'accordo di Gasperi Gruber sempre parlando diciamo dell'autonomia legislativa amministrativa del Trentino io mi sono detta forse è utile per mettere in contesto questo accordo di ricordare il suo contenuto intero o diciamo qual è stato e qual è il suo contenuto e qual è il frame o diciamo il quadro giuridico che pone per l'autonomia speciale di cui stiamo ragionando sulla quale stiamo riflettendo l'accordo di Gasperi Gruber ha due diciamo due pilastri un pilastro è quello di tutelare la minoranza di lingua tedesca tramite misure particolari come la scuola nella madrelingua la partecipazione e questo è forse importante la partecipazione l'equiparazione della lingua tedesca a quella italiana e la partecipazione in proporzione alla consistenza dei gruppi linguistici che allora era il gruppo tedesca a quella italiana perché sappiamo che i ladini nell'accordo di Gasperi Grube non ne sono entrati nel primo momento ma soltanto dopo tramite il pacchetto perché l'Italia non considerava il ladino una lingua ma un dialetto una variante dell'italiano dunque quello che è importante è che questo diciamo questo pacchetto di misure indirizzate a tutelare le popolazioni di lingua tedesca c'era anche una partecipazione all'esercizio del potere pubblico in proporzione della consistenza dei due gruppi dunque quello di lingua italiana e quello di lingua tedesca il proporzio che poi si articola anche nell'accesso agli uffici pubblici eccetera e questo già ci porta al secondo pelastro all'autonomia legislativa e amministrativa un'autonomia territoriale un'autonomia territoriale che nel mondo del discorso sulla tutela delle minoranze linguistiche è un metodo molto molto agguerito per tutelare proprio le minoranze che a condizione che siano insediate abbastanza in maniera abbastanza consolidata sul territorio a quale si riferisce questa autonomia che il frame di questa autonomia legislativa e amministrativa poi sia stata definita come è stata definita nel primo statuto di autonomia anche su questo è stato detto tutto e molto sappiamo poi anche come è andata la storia oggi è già stato menzionato il pacchetto questo pacchetto di 137 misure che per le popolazioni altosine è qui di nuovo il riferimento alle minoranze da tutelare che ha poi ha trovato la sua attazione fino che ha preso tempo fino al 1992 e con la quittanza liberatoria è stata chiusa e ha dichiarato chiuso il conflitto fra le due parti contraenti l'Italia e l'Austria e ha portato ha affermato ha confermato questa impostazione trittica o tripulare come si vuole chiamarla però rovesciando il ruolo portando il baricentro dell'autonomia amministrativa e legittiva alle due province autonome e in questo senso assolutamente così come il primo statuto di autonomia anche il secondo ha riguardato il Trentino perché consolidando rafforzando allargando l'autonomia del Sud Tirolo in parallelo anche l'autonomia del Trentino si è accresciuta l'autonomia legislativa e amministrativa per quanto riguarda le misure di tutela diciamo in senso stretto questo è sono delle cose che riguardano all'epoca allora esclusivamente il Sud Tirolo due punti cosa significa giuridicamente questa dichiarazione della chiusura dell'avvertenza tramite l'acquietante liberatoria da una parte significa che si determina uno status di autonomia che deve essere mantenuta dall'Italia e l'Austria nell'ambito della sua funzione tutrice controlla che questo standard sia mantenuto da parte dell'Italia status quo dell'autonomia e seconda cosa in tutti gli atti che praticamente accompagnano questa quittanza liberatoria che portano alla chiusura dell'avvertenza abbiamo un'espressione del principio consensuale fra l'Italia e l'Austria fra l'Italia e anche le popolazioni ai quali è diretto il governo centrale e i gruppi etnici interessati questo è un aspetto molto importante perché poi strada facendo soprattutto negli ultimi 10-15 anni questo consenso questo nello diciamo nello vivere questo accordo di Gasperi Gruber si è per esempio visto nell'occasione della legge costituzionale sui ladini dove l'Italia ha comunicato il progetto di questa legge costituzionale sui ladini che è andata a modificare lo statuto al governo austriaco naturalmente in base al consenso già ottenuto con il gruppo di lingua tedesca e il gruppo di lingua ladino perché è un'estensione della tutela dei ladini nell'ambito del sud Tirolo ecco qui abbiamo questo diciamo questo rapporto costruttivo fra l'Italia e l'Austria nel vivere e nell'applicare questo accordo di Gasperi Gruber quello che poi è anche stato già rappresentato molto bene è che nell'ambito del riforme costituzionale dello sviluppo dell'aspetto regionale dello Stato che una volta si diceva Stato regionale italiano si sono avuti ulteriori sviluppi anche e si può dire in un certo senso quasi naturalmente mentre lo secondo Statuto di Autonomia era il baricentro dell'autonomia legislativa e amministrativa che andava alle due province parallelo e dopo è venuto diciamo lo spostamento anche istituzionale o l'accoglimento dell'aspetto istituzionale di questo spostamento e di questo rafforzamento del ruolo delle due province infatti Gianfranco ha detto che sono come delle regioni quello che non corrisponde ancora ad essere delle regioni è lo statuto che è unico che parla di regioni e di due province autonome i nomi non sono ancora quelli la sostanza però è questa in questo quadro abbiamo anche un altro sviluppo secondo me molto importante quello collogato al diritto dell'Unione Europea perché il diritto dell'Unione Europea è un diritto quasi onnipresente nell'ambito della nostra autonomia è un elemento di cui bisogna tener conto infatti abbiamo anche fatto delle ricerche per vedere un po' quante più o meno percentuali delle competenze legittive e amministrative sono predeterminate nel loro contenuto dal diritto dell'Unione Europea si dice tra il 60 e il 70% soprattutto nell'ambito delle competenze economiche quello che le due province hanno colto molto bene è l'importanza di questo elemento e mi ricordo molto bene che hanno deciso in un certo momento nel 1940 95 dopo il mercato unico che c'era l'esigenza di aprire un ufficio di rappresentanza comune a Bruxelles e lo hanno fatto con molta creatività perché non era ancora possibile in questo senso portare un ufficio provinciale a Bruxelles e l'hanno fatto incaricando le camere di commercio con tutti i problemi che poi ne sono nati così come hanno colto anche la grande opportunità offerta dall'Unione Europea tramite il gruppo europeo di cooperazione territoriale ecco quello che il GEC che oggi noi conosciamo come Oregio Tirolo Trentino Alto Adige Trentino e il quale è appena stato riformato e ampliato diciamo nella sua presenza anche nei nostri territori cosa voglio dire con questo con questo voglio dire che le due province forti della loro autonomia legislativa e amministrativa hanno saputo cogliere aspetti in cui dovevano agire in comune e per questo non si sono riferiti alla regione anzi hanno praticamente lasciato a parte la regione hanno detto noi abbiamo le competenze e noi agiamo insieme vediamo di costruire la nostra realtà molto pragmaticamente senza cambiare l'assetto giuridico hanno sviluppato hanno usato le competenze che hanno in parallelo in comune non sempre senza frizioni che questo sia ben chiaro e così come Marco Boatto ha detto ho lottato siamo andati avanti insieme però abbiamo anche litigato anche questo è vero per questo versante e adesso credo che abbiamo un cooperare un quadro di cooperazione che non è soltanto fra le due province ma anche col Tirolo nell'ambito del GEC che copre molte molte aree di interesse comune che adesso con la riforma vanno dell'economia all'ambiente alla ricerca che è anche stata evocata come un settore dove bisognerebbe collaborare di più dunque abbiamo questo quadro che va oltre la regione ma che è un quadro nato credo da un'esigenza sentita percepita e accolta da parte del governo politico o da chi governa e chi riflette anche verso il futuro è già stato detto che purtroppo i tentativi di incamminarsi verso una modifica dello statuto che si sono espresse nella consulta e nella convenzione di Bolzano hanno portato diciamo a due camini paralleli che per quanto riguarda la regione e questo è anche stato ricordato credo in uno dei incontri precedenti hanno dato due esiti diversi il trentino il mantenimento della regione anzi forse meglio anche rafforzarla dal punto di vista legislativo qualcuno credo sia stato lei presidente che ha detto secondo lei la soluzione giusta sarebbe quella di dare alla regione la legislazione e alle province le funzioni mi consenta di sentire profondamente da questo sono le province quelle che sono il cuore dell'autonomia e così questo è lo sviluppo io non vorrei tornare indietro soprattutto dal punto di vista del Suttirolo non vorrei mai tornare indietro a una costruzione dove Bolzano Suttirolo non ha la funzione di governo e fare legge significa governare anche anche nel quadro attuale dove fare leggi è talvolta molto difficile anche per quanto riguarda il contenuto e lì diciamo i limiti anche di contenuto che vengono posti dalla normativa statale quello che è venuto fuori e anche questa è la conseguenza è quella che non abbiamo un concetto diciamo in qualche maniera condivisa di come sviluppare ulteriormente lo statuto del per il Trentino Aldo Alge Suttirolo è anche dovuto a questo diciamo lavorare parallelo però francamente io ho fatto parte della convenzione con il professor Tognatti e la mia opinione personale è che non avremmo potuto lavorare congiuntamente perché la convenzione ha preso una via ben precisa per la sua composizione dove si voleva parlare dell'autodeterminazione e questo va anche bene è anche corretto bisogna anche riflettere su questo però noi avevamo il compito di parlare dello statuto e questo ci ha dato non poche difficoltà all'interno della convenzione che poi si sono rispecate anche nel documento finale dove in primis era previsto come una proposta di un articolato per il consiglio provinciale questa è nella versione originale della legge istituttiva della convenzione era previsto questo un articolato dunque un disegno di legge una proposta come modificare puntualmente o in lo statuto questo accorgendosi della problematicità di un tale elaborato è stato cambiato in un documento dunque con delle proposte soltanto per dirvi le difficoltà che abbiamo incontrato all'interno della convenzione nella discussione dunque cosa rimane da dire certamente l'idea di Guinto Palaver è molto attrattiva quel tentativo di portare la soluzione tramite un accordo con uno stato o accordi fra enti territoriali di altri stati dunque risolvere la questione portandola a un livello internazionale io credo che sarebbe meglio riflettere su come risolvere all'interno cioè a livello costituzionale e qui devo dire che propendo altrimenti la domanda me la fa Roberto Tognatti tu cosa dici cosa vuoi per la regione per evitare questo no io francamente propendo per una regione che sia luogo di coordinamento e di cooperazione però diciamo nel progredire quasi naturale degli sviluppi che abbiamo visto negli ultimi anni quasi così come è stato riportato nel disegno di legge proposto dai senatori sull'autonomia integrale dunque la regione come luogo di incontro di coordinamento per gli interessi comuni diciamo quasi prevedere qualche procedura di come coordinarsi ma non una regione che abbia proprie competenze legislative e io direi che è una conseguenza anche degli sviluppi degli ultimi anni dove la delega delle funzioni ammestive è avvenuta dove constatiamo che le competenze legislative vengono esercitate secondo le esigenze dei due territori perché questa la legge regionale sul comune non è nient'altro che il prendere atto che fra Sutterola provincia di Bolzano e Detento ci sono esigenze diverse a livello comunale per cui credo che questo si potrebbe anche portare a compimento in questo senso questo avrebbe il vantaggio che manteniamo l'unicità dello statuto che non bisogna cambiare anche la costituzione perché nel momento in cui noi pensiamo a due regioni autonome e avendo lavorato col presidente Durmalder e avendo anche discusso con lui anche questo potrebbe essere una conseguenza quasi naturale dei sviluppi però forse sono un po' troppo prammatica per questo dico perché non cercare di nell'unicità dello statuto fare due regioni di fatto e anche giuridicamente separati che però hanno il loro luogo di incontro guardate secondo me sia Bolzano che Trento hanno ben capito che non sono delle entità a sé stanti che hanno bisogno di collaborare che poi questa collaborazione o questa cooperazione sia più o meno intensa a secondo la situazione politica questa è una valutazione politica che io non vorrei fare però io credo che negli ultimi 15 anni 20 anni è stato effettivamente mostrato il fatto che Trento e Bolzano dove c'è interesse comune vanno insieme vanno insieme nella paritetica vanno insieme a trattare l'autonomia finanziaria vanno insieme a creare un ente di cooperazione transfrontaliera per risolvere problemi transfrontalieri e vanno insieme anche a Bruxelles e anche a Roma dunque io qui confido diciamo nel buon senso e nella capacità di governare di chi governa a Trento e Bolzano e io non credo che abbiamo bisogno di un quadro vincolante giuridico ulteriore grazie grazie Esther e adesso passiamo all'intervento di Flavio Mosconi è stato per chi non lo conosce ma lo conoscono tutti credo comunque consigliere regionale è stato presidente della commissione dei dodici nella fase 2001 2006 se non sbaglio quindi una fase tra l'altro molto importante per alcune norme di primissimo piano tra le quali per esempio anche quella dell'energia e ti lascio la parola così guadagniamo tempo grazie grazie anche da parte mia un ringraziamento sentito al professor Toniati e a Gianfranco Postal per questa occasione che si hanno offerto non ce ne sono molti da posire tempo in qua per discutere e rasonare sono rimasto colpito positivamente dal titolo di questo ciclo di incontri rasonare vuol dire riflettere insieme confrontarsi vuol dire mettere a confronto opinioni esperienze opinioni anche magari contrastanti perché discutendo sul complesso delle opinioni del modo di sentire il problema dell'autonomia e della regione si possa prospettare un futuro costruttivo rispetto a quello che abbiamo dovuto vedere in questi ultimi vent'anni il taglio del mio intervento sono costretto dire che sarà parzialmente in disaccordo con quello che ho sentito finora io porterò una testimonianza che mi deriva dal opere e attività svolta nei ruoli istituzionali che ho ricoperto sia all'interno del consiglio provinciale e regionale che come presidente della commissione dei dodici il titolo si riceva ragioniamo sulla regione inizio con una brevissima dichiarazione su ciò che io penso della regione l'ho sempre sostenuto l'ho sostenuto sui banchi del consiglio l'ho sostenuto qualche volta anche sulla stampa per me la regione ha una valenza esistenziale importantissima siamo nel Trentino mi occuperò principalmente di parlare di autonomia del Trentino perché è questa la domanda che ci viene che ci viene posta e quindi per me la regione è quell'istituzione che giustifica e legittima l'autonomia del Trentino è quella regione che sorrege l'autonomia del Trentino è una dichiarazione iniziale poi approfondirò perché se no sarebbe troppo facile fare questo tipo di dichiarazione e quindi mi obbliga anche a far ceno sarà breve il mio al discorso dell'autonomia e mi occuperò forse della regione e mettendo a confronto ciò che è stato fatto in questi ultimi vent'anni di fronte ad una opinione a un concetto a una visione della sia dell'autonomia della regione che non sono mai state concordi fino in fondo metterò a confronto quello che io definisco come le due fasce forse è meglio dire le due anime dell'autonomia l'autonomia della convivenza e l'autonomia della separatezza sono due titoli che meriterebbero veramente approfondimenti e ragionamenti profondi su questi aspetti e allora sono costretto a confrontarmi lo dico in partenza per non essere frainteso con quello che è stato il mio interlocutore più più credibile diciamo dal punto di vista del confronto in quel periodo che io mi sono occupato di autonomia all'interno del Consiglio regionale e provinciale io di autonomia mastico da quasi mezzo secolo forse senza quasi mezzo secolo e anche su anche su altri fronti mi riferirò all'amico Lorenzo Delai tanto per capirci non voglio che appaia questo una volontà di criticare a tutti i costi non è questo lo considero la ripresa è una prosecuzione di un dialogo che si è interrotto per quanto mi riguarda sui banchi del Consiglio parecchi anni fa nel 2008 è continuato sporadicamente sulla stampa ma posso dire che pur avendo opinioni sono costretto a dire nettamente diverse su alcuni aspetti della materia che stiamo esaminando abbiamo sempre avuto un rapporto di reciproca stima e cordialità e da me quindi la prenderà anche questa sera in questo senso mi auguro l'amico Lorenzo Delai e allora dobbiamo sono costretto a fare anch'io un riferimento prima di parlare di regione nello specifico all'autonomia la dottoressa ha fatto un cino interessante all'accordo dei Gasperi e Gruber e ha fatto molto bene che bisogna leggerlo io sono poche righe lo leggo per intero per farmi capire nel patto si dice gli abitanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano e quelli dei vicini comuni bilingue della provincia di Trento saranno garantiti una completa uguaglianza di diritto rispetto agli abitanti di lingua italiana nel quadro delle disposizioni speciali destinati a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca continua nel secondo coma è concesso alle popolazioni delle zone sopra menzionate l'esercizio di un potere legislativo ed esecutivo regionale autonomo non dovrebbero esserci dubbi di interpretazione su quello che ho letto finora è quello che ha sostenuto la force partaglia da sempre dal 47 in poi che si riteneva sia sempre ritenuta allora e tuttora è destinataria esclusiva dell'autonomia derivante dal pacchetto De Gasperi e Gruber e dice è concesso alle popolazioni soprannominate quindi dal punto di vista se vogliamo geografico ambientale chiamiamolo è chiaro il discorso si parla di provincia di Bozzano più 15 comuni di legni confinanti con Bozzano che sono riportati nell'articolo 3 dello statuto e quindi questo ha dato purtroppo a causa di una errori madornali compiuti soprattutto dalla politica trentina nella prima attuazione dello statuto del 48 ha dato il destro ad accuse anche pesanti prima l'amico Marco Boatto citava Gruber lo sappiamo lo sappiamo lo sanno tutti quanti che De Gasperi è stato accusato di furto e di tradimento per aver interpretato in modo diverso e lo vedremo col secondo passaggio l'ambito territoriale destinatario dell'accordo di Gasperi Gruber allora se questo è la partenza dell'accordo di Gasperi Gruber dobbiamo andare a verificare cosa è stato fatto nel primo statuto di autonomia del 48 da parte di soprattutto evidentemente della figura di De Gasperi mi sono annotate queste cose per essere preciso nella mia esposizione sto cercando ecco De Gasperi dall'assemblea costituttiva del 29 gennaio 48 sono poche righe non è che vi faccio per il tempo lo spirito dell'accordo anche per quel che riguarda l'autonomia amministrativa è quello di trovare il modo di collaborazione e cooperazione fra le due nazionalità il compito era questo mantenere l'impegno che si era preso a Parisi assicurare cioè l'esercizio di un potere autonomo agli abitanti della zona di Bolzano e contemporaneamente soddisfare le aspirazioni degli abitanti della provincia di Trento a garantire anche l'esistenza a tutti i diritti della minoranza italiana nella provincia di Bolzano ossia risolvere il problema della convivenza ecco la parola chiave per me amministrativa creando garanzie istituzionali per la minoranza entro la regione dei tedeschi e dentro la provincia di Bolzano degli italiani quando si parla di io mi sono speso in tutti i sensi in tutte le occasioni per me la convivenza è stata è diventata veramente il termine di paragone su tutto ciò che è venuto successivamente anche allo statuto del 1972 evidentemente la convivenza non è una coabitazione convivere vuol dire progettare pensare ideare lesiferare attuare realizzare insieme questo io la vedo la intendo in questo senso la convivenza e questo era lo spirito di Gasperiano che secondo me è andato a perdersi col passare degli anni dirò un po' più avanti a che punti che siamo arrivati e prima devo stiamo parlando del primo così poi magari mi dimenticavo del primo statuto di autonomia sono costretto a coerese dall'amico Marco Boato evidentemente questo non intacca assolutamente il rapporto di amicizia che abbiamo perché è per la seconda volta che lo sento dire che per la prima volta sono state introdotte le province anche come denominazione nello statuto non è vero perché ce l'ho qui davanti il capo terzo dello statuto del 48 ci intitola proprio funzioni delle province io ho detto in costituzione non nello statuto se ci intendevi la costituzione no ho detto in costituzione ah beh allora ritiro chiedo scusa con l'aggettivo autonome ecco era solo si era era solo per dire che ho fatto un ritenimento prima lo statuto del 72 ha fatto giustizia delle sacrosante rivendicazioni alcoatesine per i motivi che ho detto prima sono state esposte molto bene anche nei precedenti incontri quindi non voglio divagare su questo su questo argomento le province per effetto dell'articolo 18 ex 14 sono state indicate come non non in toto in obbligo in assoluto ma normalmente incaricate di effettuare le attività di governo rispetto alle leggi che a quei tempi emanava la regione che successivamente poi quel quel normalmente è stato trascurato è diventato quasi un obbligo perché si doveva trasferire tutto dalla regione alle due province con l'obiettivo principale come ho sempre sostenuto di arrivare e qui sono costretto a descrivere con la chiarezza in questi termini che posso comprendere fino in fondo senza condividere le aspirazioni le attese l'attività svolta dall'alto arisi ma non potrò mai essere d'accordo e condividere il comportamento lo vedremo poi in alcuni passaggi importanti legislativi della politica trentina nella secondaria perché poteva essere diverso se fosse prevalso il discorso della convivenza come voluta da De Gasperi e in questo senso anche io ho sempre sostenuto che per il trentino è stato un dono da parte di De Gasperi per trasferire vedremo dopo estendere l'autonomia anche sul anche sul sul trentino quindi riprendendo il discorso delle due province nessuno poteva immaginare all'epoca io ho fatto all'interno del consiglio regionale molti dibattiti molti interventi richiamando sempre quello che era lo scopo la donazione condizionata penso di poterla definire da parte di De Gasperi perché era condizionata al fatto che venisse creato e coltivato un ambiente un clima di convivenza del fare assieme all'interno della regione e fino a quei tempi portavo anche degli esempi possiamo possiamo immaginare sapendo che si tratta di 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 una parentesi di fantasia cosa si sarebbe potuto fare applicando alla lettera l'indicazione e lo spirito di Gasperiano del loro statuto di autonomia si sarebbe potuto parlare di un ospedale regionale di una università bilingue regionale di una politica ambientale infrastrutturale sanitaria energetica regionale unire le forze per forza intendo la disponibilità finanziaria per raggiungere un obiettivo e qui sono d'accordo con la professoressa che tenga conto delle delle diversità fra l'Alto Adisi e il Trentino ma con una logica legislativa e con dei soprattutto in certi settori come quello che che mi sono permesso di di indicare si sarebbe potuto fare veramente molto allora è nata spesso volte anche sui banchi del consiglio la domanda ciò che è stato fatto dal 2001 in poi ha realizzato o tradito lo spirito di Gasperiano dello statuto di autonomia per me la risposta è chiara io non pretendo che sia tanto chiara per tutti ci sarà chi la penserà diversamente chi mi può anche criticare non sono qui a dispensare certezze sono qui a portare contributi e riflessioni mie che possono servire per essere messi a confronto di quelle di altri che la pensano evidentemente in modo diverso da diverso da bene e allora vengo al confronto con l'amico Lorenzo Delai siamo ancora sul discorso autonomia anche anche questa l'oscarità perché non voglio riportare poi non correttamente la dichiarazione di altri la nostra infatti non è un'autonomia concessa ma riconosciuta significa che preesisteva nei suoi presupposti al riconoscimento giuridico formale si può sostenere e Delai la sta sostenendo io ho sentito una parte del primo intervento che si spinge fino a modificare non la chiamerebbe più provincia ma comunità autonoma o addirittura lande riferendosi ovviamente ai lander della Germania eccetera eccetera a quella che è stata citata anche dalla professoressa quelle province autonome e autosufficienti ma distinte nettamente che potrebbero essere trasformate in due regioni autonome allora inserisco subito una domanda che anche qui mi sono sempre fatto se dovesse succedere questo nel senso che magari andasse in porto io non lo posso escludere mi auguro veramente di no che venisse abolita la regione la domanda che è sorta anche in altri personaggi che si sono espressi chi sarebbe più garantito la regione dell'Alto Adige o la regione del Trentino se abbiamo visto che il ramo come l'ho definito di notoria conoscenza dell'autonomia trentina è esattamente la regione lo riprenderò dopo questo discorso non mi senterei tanto tranquillo lo vedremo poi quando si parla di proposte da fare cosa converebbe cosa converebbe per fare allora partiamo con alcuni ceni veloci evidentemente sui passaggi legislativi importanti che hanno modificato sostanzialmente interpretazioni ed esecuzioni e attuazioni sia del primo secondo me statuto sia del secondo del 1972 vediamo la prima più importante trascuravo di dire che quando chiudo il discorso dell'autonomia ho sempre sostenuto anche un'altra cosa nella storia plurisecolare di quell'ambito regionale che comprende le province di Trento e di Bolzano possiamo ritrovare un qualcosa che assomiglia anche lontanamente alla autonomia concessa con il primo statuto di autonomia del 1948 sia alla regione e quindi di conseguenza anche alle province e sottolineo province perché il relatore sempre nell'assemblea del 1948 ha messo in evidenza una peculiarità una caratteristica speciale tipica specialissima della realtà del Trentino Alto Adesi che è l'autonomia creata nell'autonomia normalmente nel resto di Italia il potere legislativo è delle regioni e le province qui da noi hanno potere legislativo anche le province quindi erano già di per sé valorizzate fin dall'inizio poi come ho detto prima è stata fatta giustizia con il secondo statuto io sono sempre stato d'accordo anche che è giusto trasferire il governo le attività dalla regione alle due alle due province ma non nei termini in cui è stato fatto in cui ancora si potrebbe immaginare di fare ancora nel 1900 in 2001 ci troviamo di fronte ad una partenza del 48 che prevedeva una regione che irradia sulle province poteri risorse finanziarie ed autonomia nel 2001 ci troviamo di fronte ad una cosa totalmente diversa ecco dove di sento sono costretto di sentire dall'amico un boato siamo arrivati a due province che si ritengono in parte lo sono evidentemente autonome non autosufficienti secondo me ma che ritengono il 99% dei poteri che unendosi possono formare diciamo pure anche formano un fantasma che si chiama ragione e a questi punti io parto dal 2001 in questi termini ragione ecco dove mi dissocio dal discorso che ha fatto giustamente Marco Boato perché nel 2001 io vorrei chiedere a tanti trentini qualcuno ha memoria di discussioni di dibattiti fatti nel consiglio regionale o nei provinciali per dire che ci vuole dobbiamo modificare la costituzione eccetera perché nessuno secondo me è una modifica costituzionale avvenuta da parte degli addetti ai lavori butolini idea non mi rinforzo Marco rimaniamo amici al di là di tutto ma non preoccuparti parla liberamente ecco 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 bravo effetto bravo per effetto di determinate c'è anche Luciano Asselini che ha memoria parlamentare me di sicuro di congiunzioni estrali perché c'è momenti in cui un gruppetto di parlamentari riesce a spostare lasciamo perdere un po' i particolari la vera volontà il vero motivo la vera motivazione della modifica costituzionale del 2001 era un'altra quella di sempre era quella di creare i presupposti legislativi di rango costituzionale per dire che i poteri andavano gradualmente trasferiti totalmente sulle province ripeto secondo l'obiettivo che non mi permetto di non andrei mai a dire queste cose a Bolzano perché hanno loro hanno sempre rivendicato l'esclusività come destinatari dell'autonomia ma nel Trentino mi sarei aspettato comportamenti diversi anche da parte dei parlamentari su certi punti veramente importanti allora arriviamo al 2003 2003 ho piacere che sia qui anche Carlo Andreotti perché abbiamo vissuto assieme all'interno del consiglio regionale un'altra iniziativa di carattere legislativo tengo a precisare che tutto quello che riferisco è verificabile nei documenti non sto fantasticando o sognando delle cose è tutto verificabile nel 2003 inizia la discussione sul il totale svuotamento della regione sul trasferimento di quelle che pochissime competenze che rimanevano in capo alla regione trasferirle sulle province disegno di legge portato avanti ovviamente dalla maggioranza del consiglio regionale io sono sempre stato preferisco parlare di minoranza più di opposizione che mi conosce sa che non sono io in quelle occasioni ho fatto ostruzionismo anche notturno credetemi assieme ad altri delle minoranze perché e prendo il discorso che per me era vitale esistenziale il discorso che permanesse la regione come giustificazione e legittimazione dell'autonomia del Trentino quello di Pozzano era chiaro era scontato bene costruzionismo per alcuni giorni non riuscirei a quantificarli bene alla fine la maggioranza rifacendosi alla questione dei principi fondamentali con un colpo di mano l'ho avuto lì così perché non so come altro definirlo fa piazza pulita di tutti i 25 comi dell'articolato di legge sui quali noi facevamo ostruzionismo fa piazza pulita e fa passare la legge che viene approvata sarebbe molto importante che qualcuno che volesse informarsi andasse a vedere il verbalizzato di quelle sedute del consiglio regionale eccetera perché dalla stampa non si va mai nulla il sistema probabilmente non vabbè la siamo la siamo perdere ma posso dire con cognizione di causa perché l'ho vissuto queste cose è stata così che la regione è finita nella discarica della storia questa affermazione è risuonata all'interno del consiglio regionale ed è riportata basta verificarlo l'ho riportata anche sul libro che ho scritto è riportata è finita così ovviamente questa era un'affermazione da parte della chiamiamola destra spinta di 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 non voglio mica per l'amore per l'amore di dire però anche questo mi consento quando parlavo prima di della dell'importanza di questo incontro nel quale si potevano anche ripristinare elementi di verità storica documentata questo entra a tutti i titoli quello che che sto dicendo in questo momento perché la 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 parte la mazoranza trentina che faceva parte della mazoranza regionale ha votato per svuotare totalmente la regione questo nessuno lo può mettere in discussione perché è lì è negli atti quando si alza la mano si esprime e quindi è un passaggio estremamente estremamente importante delicato e significativo così è andata arriviamo alla riforma costituzionale del 2005 2006 anche quello lo sto riportando perché ha un motivo del tutto particolare che dirò un po' avanti la riforma costituzionale mi consente di dire anche qui è difficile smentirmi su questo che l'unico parlamento italiano italiano della nostra repubblica che ha approvato in la forma strutturale della costituzione al primo comand dell'articolo 116 la cosiddetta clausola dell'intesa la blindatura dello statuto è stato un parlamento con governo Berlusconi non è necessario essere d'accordo e entusiasti di Berlusconi ma riconoscere quello che è stato fatto penso che sia una questione di verità storica che va riconosciuta nessuno può metterla in discussione poi è stata bocciata la riforma dal referendum così come è stata bocciata quella del 2016 però anche questa è una verità storica che mi permetto di portare a conoscenza perché tutti ne siano ne siano coscienti sempre nel 2006 e anche qui mi esprimo all'epoca ero presidente della commissione dei 12 è stata dopo tre anni di discussioni approvata portata in commissione la norma sulla giustizia anche qui ci tengo l'ho scritto più volte anche sulla stampa ma cosa prevedeva la norma io ho convocato la commissione non a Roma dove era a Bolzano per facilitare la partecipazione dei parlamentari sia dell'altuale sia del Trentino che eravamo in campagna elettorale ricordate nel 2006 la norma prevedeva l'individuazione dei tribunali trasferimento delle competenze amministrativi dei tribunali e quindi non della giusta ovviamente e il costo del personale si parlava se non ricordo male di circa 700 persone a carico dello Stato siamo a Bolzano era tutto finito ho dovuto impegnarmi me lo assicuro non per andare alle cerche di meriti che non sono fuori di discussione però ho impiegato tre anni per arrivare fin lì perché soprattutto sul discorso dei tribunali sull'individuazione della sede dei tribunali che l'articolo lo riservava totalmente alla competenza primaria ed esclusiva dello Stato e non sicuramente però il ministro dell'epoca si era imposto e quindi è stato emesso un parere favorevole anche dall'ufficio legislativo Gianfranco Postale può essere buon testimonio di questo cosa è successo la mattina un fax dei due presidenti e Don Valde che non è che si sono dichiarati i contrari assolutamente ma volevano che le competenze che queste delega venisse fatta non in capo alla regione ma in capo alle provinciali perché la strada percorso era quella se sto cercando di rimolire la regione per portare tutti i paesi non posso essere d'accordo ecco se riesco a farmi spiegare bene su una norma che poi rimetterebbe ironia della sorte e la norma e ovviamente lì non è passata perché c'era il vetto dei componenti della commissione locale è stata approvata molti anni dopo adesso non ricordo la data esatta Gianfranco lo ricorderà di sicuro presidente dell'AI avendo perso per strada il discorso dei tribunali vi ricordate quante discussioni in questi ultimi anni il tribunale andrò a difendere il tonale Robretto Rio eccetera eccetera è stata concessa alla regione e costi del personale a carico delle province delle autonomie locali qui non più dello Stato ho citato sto caso ripeto per far capire che anche lì non si poteva la logica ti portava a dire da parte di tutti che doveva essere riferita alla regione perché ha meno contiguità dal punto di vista dei poteri nei confronti della 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 mazzettatura dei tribunali però è andata a finire è andata a finire così e quindi siamo di fronte ad una regione ormai quasi totalmente svuotata spero di accelerare cito molto velocemente il patto di Milano anche lì mi sono espresso non su questi giorni ma immediatamente dopo il 2010 2011 l'ho definito una volta forse un po' esagerando il famigerato patto di Milano perché l'ho criticato ancora una volta faccio riferimento alle norme dello Statuto giustamente prima Gianfranco ricordava eh l'articolo cento e quattro dello Statuto che consente solo relativamente al titolo sesto che riguarda la finanza della regione e delle due e delle due province di eh preio accordo di modificarlo con legge ordinaria qual era lo scopo? Il concorso delle della regione e delle due province al risalimento dei conti pubblici dello Stato io l'ho sempre sostenuto la necessità non possiamo chiamarci fuori è giusto che anche la provincia di Trento e Bozzano concorrono come fanno tutti però io mai avrei fatto ricorso all'articolo eh cento e quattro perché per me ha costituito eh con con una brezza nel fortino della nostra autonomia tant'è che per effetto di quella legge è stato introdotto quasi ex novo si può dire l'articolo settantanove del nostro statuto e che bisognerebbe leggerlo l'ho scritto anche sulla stampa questo molto bene per capire perché ha significato una riduzione dei famosi nove decimi che penso di poter dire perché ho avuto cognizione di caso e Carlo me lo può confermare con la quota variabile che c'era tutti gli anni si raggiungeva anche il cento per cento del gettito fiscale all'interno della regione quindi delle due e delle due province bene in quel momento proprio statutariamente e immediatamente i nove decimi sono diventati meno di sette perché dopo più di sessant'anni troviamo nello statuto indicata la c i novecento e cinque milioni di euro fra Trento e Polzano sono apparsi per la prima volta nello statuto di autonomia quindi si indebolisce anche il discorso del continuare a inveire contro i governi qualunque si siano di centro centrodestra di centro sinistra però lì è scritta nello statuto come si fa poi a lamentarsi per il fatto più inutile abbiamo lasciato il salto sì grazie allora più no 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 allora 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 vediamo andiamo sul a finire se se dipendesse da me più che di riforma del statuto parlerei di riforma dei rapporti fra Trento e Polzano si parlava di riforma del dello statuto vent'anni fa quando era necessario adeguarlo alle modifiche costituzionali del 2000 e del 2001 su alcuni punti ancora adesso uno che legge lo statuto non è cosciente non sa che non corrisponde in toto perché quel che riguarda la demolizione della tripolarità come la definisco io non è contenuta è più veritiero storicamente secondo me lo statuto che la riforma costituzionale perché è difficile dire che se prendiamo non so uno studente di università o qualcuno che sia che vada a leggere lo statuto così quello che trovo scritto non corrisponde sicuramente a quello che è stata fatta la modifica della costituzione ma se dovesse leggere quello che ha modificato è costretto a pensare che preesistevano a due province che poi unendo si formano la regione è un falso storico io non ho problemi a dichiararlo in questi termini perché la realtà storica è che era la regione destinata e che la irradiava poi sulle province come in effetti la irradiava allora mi viene da chiedere non ho mai capito cosa si potrebbe pretendere o aspicare da parte dello Stato che non sia già stato dato faccio fatica a vedere anche nei due organismi il fatto di aver creato due organismi distinti autonomi distinti e distanti si potrebbe veramente mededire è un ulteriore schiaffo alla regione allo spirito de gasperiano della regione perché se si va separati anche a modificare lo statuto che dovrebbe essere come si diceva prima unitario veramente non si sa dove si va dove si va a parare cito Bruno Chieser per un attimo solo tanto per far capire quello che lui diceva in una intervista concessa a Paolo Pagliaro allora direttore dell'Adice Chieser come sappiamo è scomparso da esattamente 30 anni fa quindi poco prima diceva sostiene che l'autonomia è ormai a regime nel senso che dispone di norme e di finanziamenti ma occorre diffondere distribuire e collocare questo potere sul territorio lo diceva 30 anni fa prima che avvenissero tutte quelle cose che ho citato quindi mi permetto anche di dire col professor Tognati che anche questo aspetto della diffusione dell'autonomia sul territorio meriterebbe qualche ciclo di riflessioni e di ragionamenti perché attualmente ci troviamo di fronte ad un centralismo che da Roma è stato portato a Trento ma poi per i motivi che conoscete tutti quanti e tu sei fermato lì non è difficile parlare di autonomia ecco se io sono convinto che il futuro della regione non è nelle mani dello Stato non devo andare con lo Stato a trattare cosa è nella politica locale è nella volontà politica locale che si può definire cosa deve fare cosa deve essere e cosa deve fare la regione e mi permetto anche di dire che non condivido quella posizione rinunciataria secondo la quale ormai è stato fatto tutto è stata svolta la regione non se ne parla più no io sostengo sbagliando magari qualcuno mi correggerà che non è irreversibile tutto ciò che è stato fatto non è l'attribuzione delle competenze non è un processo a senso unico può funzionare anche all'inverso proprio perché l'articolo 18 parla che normalmente le competenze sono attuative di governo sono in mano alle provincie ma ho citato molti casi prima di 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 legislazione che se fosse di carattere regionale avrebbe molto più impatto avrebbe molto più spessore anche nella prospettiva europea della nostra della nostra autonomia ma questo è un discorso che deve nascere evidentemente se si riesce a creare le condizioni da un eventuale io s'andrei molto 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 cauto a mettere mano allo statuto in assenza della norma di di l'intesa della blindatura che la maggioranza dei trentini non ha voluto votando contro nella famosa un minimo non un minimo un elevato hanno votato contro per quello no sì d'accordo però 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 nel caso specifico io vi sarei alzato di notte mi sono trovato anche da solo eh a all'epoca in un comissio alla vis posso stare con a difendere questa perché se non ricordo male fratti i parlamentari dell'alto agili sono stati non così duri perché probabilmente anche loro avevano capito la valenza e l'importanza di quella di quella nuova quindi e e chiudo uno dei miei articoli ho finito ultimi passi sulla stampa il titolo era unire le forze per ripartire dalle origini non nel senso di voler dirmi volto indietro per partire dalle origini se si può e secondo me si può in certi modi correggere qualche sbaglio che è stato fatto ma aprirsi sul futuro con una maggiore disponibilità con un maggiore senso di convivenza come l'ha voluta De Gasperi e il fatto dell'origine si riferisce proprio al concetto di convivenza come è stata voluta e avrebbe dovuto essere attuata nel corso degli anni grazie 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 Flavia abbiamo qualche minuto forse finché non ci cacciano se c'è qualcuno che va bene va bene allora non aspettiamo abbiamo consumato tutto il tempo il confronto è stato molto ampio abbiamo raccolto molte osservazioni e considerazioni ecco io direi a questo punto abbiamo come dire abbiamo avuto modo di avere proprio un confronto diretto fra punti di vista molto diversi quindi quello che viene fuori è comunque che diciamo che l'accordo è sulla unicità dello statuto poi oltre lì abbiamo delle articolazioni un confronto che comunque è tutto da fare perché io credo e concludiamo qui per forza di cose che in ogni caso alla base di tutto ci sta la necessità di un confronto che fino in fondo riesca a costruire una visione comune fuori della quale se non si arriva a una visione comune o si arriva a modifiche costituzionali etero dirette quindi ce le troviamo sopra la schiena perché un Parlamento le approva oppure oppure restiamo dove siamo ma non andiamo da nessuna parte in termini innovativi mentre intorno a noi comunque il mondo si muove e comunque quelle esigenze di interessi comuni nella sanità nella ricerca nelle grandi infrastrutture e così via sono esigenze concrete reali che abbiamo tutti e per le quali forse dobbiamo sforzarsi di trovare comunque una visione comune la dico così la chiudiamo così mi ringrazio tutti anche per la pazienza e per le sollecitazioni che sono state moltissime anche questa sera grazie e buona serata grazie 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 grazie